Rivolgere il benvenuto al nome dell'amministrazione della città di Salerno al maestro Matar ringraziandolo per aver voluto essere qui questa mattina in conferenza stampa e presente all'inaugurazione della mostra questa sera alle 19. Voglio dirle che per noi è un grande errore e un grande privilegio averla qui proprio perché chi ci presentava un attimo fa diceva lei ha avuto la capacità di suggestionare e di appassionare tante generazioni e mi sono sorpreso nell'avvicinarci all'evento di quanto interesse i giovani che immaginavo potessero essere lontani dalla sua espressione artistica invece interessatissima. Naturalmente questo divide il profilo di una iniziativa culturale di grande interesse e che può appunto abbracciare l'interesse di tanti cittadini di questa regione perché noi abbiamo l'ambizione di rivolgere questa mostra a tutta la regione campana e in questo mese di allostimento noi siamo sicuri che avremo migliaia di visitatori in uno spazio che è stato sottolineato da chi mi ha preceduto uno spazio maestro che da pochissimo è stato tirato a nuovo è stato offerto alla funzione della città e che praticamente fa l'esordio con un grande evento in quello che noi chiamiamo Palazzo Fusione che lei avrà modo di conoscere e vedere.